Le ambulanze da questa mattina percorreranno i sentieri più tranquilli e più sicuri, le stradine del parco della biodiversità che consentiranno in due minuti di arrivare dal Pugliese al Ciaccio per evitare il tratto immerso nel traffico. Grazie al protocollo d'intesa siglato tra la provincia di Catanzaro e l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio i mezzi di emergenza da oggi potranno utilizzare la strada che collega i due presidi ospedalieri, il Pugliese e il Ciaccio appunto che passa all'interno del parco della biodiversità di cui è titolare l'ente intermedio. È un percorso che facilita sia soprattutto il trasporto di detergenti dal Pugliese al Ciaccio e quindi velocizzando anche dei tempi clinici e anche dei tempi di risposta nei riguardi delle necessità del paziente di avere esami o di avere consulenze sia dal bidirezionale ovviamente dal Pugliese al Ciaccio o dal Ciaccio al Pugliese. Non solo ci servirà, ma è la cosa principale per i pazienti ma anche per i problemi di logistica, per il trasporto di materiali dalla farmagia o dai reparti del Pugliese al Ciaccio e viceversa.